Buonasera, io sono Giovanni Ferrelli di Arsana, Sardegna. Allora io vengo da una brutta esperienza dalla Sardegna, ho avuto problemi, ho perso parecchi denti e molari, ho fatto un lavoro giù in Sardegna, ho messo 12 impianti, però dopo qualche anno ho iniziato a perderne qualcuno, ho perso quattro impianti nel giro di una decina d'anni, poi avevo problemi di piorrea, quindi ho perso mano a mano oggi un dente, dopo un anno un altro dente, quindi mi son trovato dopo un bel po' di anni punto a capo, praticamente non riuscivo a masticare, non avevo più i miei denti. E quindi è capitato, vedendo qualche cartello pubblicitario, poi tramite un mio paesano, è venuto a fare l'esperienza qui a Chichinau, mi ha raccontato la sua esperienza, vi ho contattato e niente, in un certo senso mi sono trovato rassicurato, ho mandato la radiografia, mi hanno fatto un preventivo e vi ho preso l'aereo, sono partito con mia moglie, mia moglie ha lo stesso mio problema, quindi siamo tutti e due a risolvere, siamo venuti a risolvere il nostro problema. Mi hanno proposto, mi hanno fatto prima l'altac e hanno deciso di praticamente di farmi sei impianti, togliere tutto, mettere sei impianti nell'arcata superiore e sei nell'arcata inferiore e poi ho dovuto fare anche un po' di ricostruzione dell'osso perché c'erano problemi dell'osso. Allora già con i provvisori tutto un altro mondo, perché avevo tutte e due le arcate, quindi piano piano riuscivo a masticare bene, certo non è che potevo mangiare una bella bistecca proprio, però intanto già bene con i provvisori. Dopo con i definitivi è tutto un altro pianeta, tutto, mi rendo conto che come se fossero i miei, cioè non me li sento addirittura in bocca, come se fossero i miei originali, mastico molto meglio, l'estetica finalmente riesco, mi metto a sorridere senza mettermi la mano in bocca, una cosa bellissima. Porta il sorridere per me è una cosa importantissima perché ti rendi, sei più a tuo agio con tutti, sei più spontaneo, più tranquillo, non hai soggezione di parlare con gli altri, proprio rimani più tranquillo, ecco, è una cosa molto bella, mi ero dimenticato di come si sorrideva. Siamo venuti a fare l'esperienza con mia moglie, siamo usciti in giro e stavamo solo ridendo, sembravamo dei bambini, veramente proprio una cosa, ci guardavamo in pace e ridavamo contenti, ogni tanto finalmente. Sì, moltissima, ci baciamo sempre. No, adesso molto di più, molto di più, molto di più, perché siamo più belli tutte e due, dobbiamo dire la verità. Per fortuna siamo sempre, sempre innamorati, adesso siamo più innamorati. Il fatto di, il fatto di avere i denti nuovi è una delle cose che mi rende molto, molto felice. Poi ci sono anche altre cose, però il fatto di avere i denti nuovi mi rende molto felice. Io dico, ragazzi, venite a Chisinau, che secondo me è il posto migliore al mondo per questo, sono veramente specialisti e sono bravi in tutto.